L'87% di raccolta differenziata nei primi 50 giorni di sperimentazione a Montesilvano Colle sono un risultato che nessuno alla vigilia poteva immaginare, anche perché attualmente la media della raccolta differenziata in città non va oltre il 22%. Per il momento sono state circa 300 le utenze, famiglie e attività commerciali coinvolte nel servizio di porta a porta per la raccolta dei rifiuti su un territorio di 2 km quadrati. Raccolta che si serve anche di tecnologie all'avanguardia come il chip incorporato nei mastelli che consente di individuare eventuali furbetti della differenziata. Dal 6 marzo ad oggi sono state raccolte 3 tonnellate di rifiuti in prevalenza residuo organico. La società Formula Ambiente, gestore dalla fine della scorsa estate per conto del comune della raccolta dei rifiuti si dice soddisfatta e pronta ad estendere il servizio. La qualità del rifiuto è notevolmente aumentata grazie al fatto che i contenitori sono più piccoli e quindi gli operatori possono verificare se all'interno dei mastelli ci sono i rifiuti che devono essere raccolti quel giorno. Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno ha sottolineato il coinvolgimento della cittadinanza che con il porta a porta viene sensibilizzata e responsabilizzata ad una corretta gestione del rifiuto domestico e commerciale. La raccolta che da luglio interesserà altre zone di Montesilvano consentirà un risparmio di circa un milione di euro per le casse comunali sui nove totali previsti dal contratto come costo della raccolta dei rifiuti. Il cittadino ha voglia di confrontarsi, ha voglia di rimboccarsi le maniche per rispettare l'ambiente ma anche per avere dei vantaggi indiretti come quello di non vedere più i cassonetti per strada o anche quello più importante di avere dei risparmi in bolletta davvero consistenti.